In cinema spesso la neve e il gelo, la solitudine di una distesa bianca, un paesaggio glaciale invernale sono spesso usati come metafora della solitudine del cuore, della desolazione dell'animo. Anche noi italiani, il cinema italiano ha provato a farlo anche recentemente con la ragazza nella nebbia o anche con i figli della notte, ma senza ottenere i risultati che dovrebbero essere. Sono rimasti sempre un po' di dascalici, cioè questa metafora ha funzionato solo come cornice, non è entrata nell'emozione, nell'animo dei personaggi, non è entrata davvero nel cuore degli spettatori. come diceva un personaggio di Fargo, il famoso film dei fratelli Cohen, che si svolge appunto in una distesa ghiacciata, in un paesaggio invernale, molte cose sorprendenti possono accadere nel nulla. Nel bianco nulla, oserei dire io. e nel film di cui parlo oggi, che si intitola I segreti di Wind River, di Taylor Sheridan, questo gelo, questa desolazione del cuore, invece affiora completamente, affiora in maniera convincente, come una morsa fredda che ti sfinga davvero l'anima. Taylor Sheridan è innanzitutto un attore, ed è, qualcuno forse lo ricorderà, sui Texas Ranger di Chuck Norris. Poi è diventato uno sceneggiatore, ha scritto una sceneggiatura chiamata Sicario, interpretata da Guillermo del Toro, che ha avuto molto successo, è stata Cannes e ha preso tanti premi, è stata anche la nomination per l'Oscar e per il Golden Globe. Successivamente ha scritto un altro film che si chiama Hell or High Water. E anche questo è un film che ha avuto successo che è stato di nuovo a Cannes. Infine ha scritto questo terzo film. Sono tre film che lui definisce una trilogia della frontiera, cioè un nuovo modo per arrivare a un western moderno, a un western contemporaneo. Gli spazi deserti, le solitudini dell'America, che sono solitudini del cuore, come ho detto prima, sia con il gelo sia senza gelo. Cioè che sono dei luoghi estremi del mondo, dove i sentimenti sono estremi, dove le cose che accadono sono estremi. L'intelligenza di questo autore è di collocare in questi luoghi così estremi non solo un'estremità di sentimenti, ma in metterci dentro un'azione, un thriller, una forza emotiva che mette in moto la storia e che conferisce a ogni cadenza, ad ogni sequenza, un suspense, un thriller che ti fa seguire con emozione e con attenzione lo svolgimento della vicenda. in questo film soprattutto c'è la solitudine del protagonista. Un protagonista che non è un detective, ma è un cacciatore. E questa è una distinzione molto importante, perché mentre il detective consegna alla giustizia il colpevole, il cacciatore elimina il colpevole. Il cacciatore è colui che spana il predatore e lo elimina. Non voglio parlare oltre di questo film, della vicenda del film, però la cosa importante è che c'è all'interno della storia un contrasto tra la solitudine e il bisogno d'amore, tra la desolazione e la ricerca di tenerezza, tra lo smarrimento dei sentimenti e il bisogno disperato di averne. in questa cornice avvolta, come ripeto, nel gelo di questa lontana regione americana, si svolge tutto e il ricordo che porto ancora con me è che nonostante il gelo e la freddezza, il calore del cuore può veramente sciogliere tutto e dare luce e amore alla vicenda. Grazie. 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 Grazie.